9 Torzi un Polaro Torzi un Polaro La sinistra del Polaro 9 10 10 9 7 26 punti per 6 punti 10 9 28 per Cassiani Attendiamo ora verifiche 9 10 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 10 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 13 10 10 10 10 9 11 12 15 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 16 16 16 16 e questo è un 9 8 8 bella bravo 8 108 a 107 campione italiano arcoludo del 2010 Giuseppe Seimandi attendiamo la verifica perché il conteggio di Seimandi potrebbe essere di 109 anziché 108 ma si conferma comunque campione assoluto grazie